Mister, complimenti perché la matematica dice che il Lanciano è in eccellenza, tre giornate dal termine del torneo, lo ha fatto con un incedere deciso, convinto, il pari di oggi l'unico in due anni di gare disputate in casa, poi sempre tre punti, ma a prescindere dai numeri, una squadra che non ha mai messo in discussione il proprio valore e l'andamento in questo campionato. Oggi l'unico rammarico è il pariggio, però allo stesso tempo abbiamo una gioia che è quella che ci ha dato la matematica vittoria del campionato, cosa che non è facile, perché non è mai facile vincere un campionato, non è mai facile neanche vincere una partita, figuriamoci un campionato così difficile, lungo e con tante insidie durante l'anno, Anche ultimamente abbiamo 4-5 ragazzi che non stanno al 100%, ma non per problemi muscolari, ma bensì per traumi, entrate, distorsioni, ginocchio, per colpa degli altri diciamo. Io ho sempre detto che chi viene qui a Lanciano viene a fare la partita della vita, noi che andiamo fuori gli altri fanno comunque la partita della vita, noi ogni domenica dobbiamo giocare contro tutto e tutti, mentre noi non ci possiamo permettere una volta, due, tre, che può succedere, di rilassarci, di abbassare un po' la tensione. No, non possiamo perché, proprio per questo motivo, perché noi abbiamo l'obbligo di cercare di vincere il campionato, ma bensì anche le stesse partite, perché molte volte se vinci una partita non va bene perché hai vinto per fortuna, un'altra volta la pareggi non va bene perché hai pareggiato, una la perdi perché non va bene, insomma è sempre difficile nel mondo del calcio perché ognuno la pensa a modo suo, diciamo, è bello per questo. Però devo dire grazie a questi ragazzi che hanno fatto un campionato straordinario, ci sono ancora altre tre partite, ci sono altri due obiettivi, perciò oggi ne abbiamo raggiunto uno, poi ce ne abbiamo un altro il 25, la finale di Coppa e poi avremo un'altra Coppa Mancini che sarebbe la vincente dell'altro girone, perciò dobbiamo stare ancora bene mentalmente, ma sicuramente dobbiamo recuperare qualcuno a livello di fisico, ma a livello di trauma in più che altro. Ecco mister, sulla gara, sugli ultimi 90 minuti che poi passano anche in secondo piano, Petrone come sta? Ha sentito dolore, proprio questo è successo con il Bucchiani, ha preso una ginocchiata sulla parte alta della rotola e da quel giorno ha avuto sempre un po' di problemi, si è allenato pochissimo, ho cercato sempre di farla allenare a parte, però oggi non ce l'ha fatta, ha tirato fino alla fine, però non ce l'ha fatta. Mentre abbiamo recuperato Quintigliani, anche se con dolore, è al piede perché domenica con il Fossa Cesi ha avuto il problema al piede, questo è, qualcun altro era ancora acciaccato sempre per i traumi, però devo dire oggi bene, sono contento per loro, sono contento per tutti i sacrifici che fanno, che non sembra, ma ne fanno tanti i ragazzi, specialmente in queste categorie, ma devo dire che sono stati bravi mentalmente, sono stati bravi ad apprendere tutto quello che ho cercato di dargli durante l'anno. Mister, l'ultima in queste tre gare che mancano, che lanciano ci dobbiamo aspettare? Beh, non dobbiamo mollare di un passo, non dobbiamo mollare nulla, non perché abbiamo vinto il campionato, ma dobbiamo ancora cercare. Ci sono un altro obiettivo, quello del record dei gol, che abbiamo due vice campionieri in squadra, insomma, devo dire che abbiamo ancora da dare e da prendere, perciò quello che gli dico ai ragazzi è di non mollare. Oggi, stasera va bene, domani faccio riposare, ma da martedì già dobbiamo ristare sul pezzo, anche perché dobbiamo già cominciare a lavorare per il prossimo anno che non sarà neanche facile.